Buonasera, sempre da qui dal nostro hotel, vogliamo vedere un attimo e sentire dal nostro inviato il tempo per domani a Monaco per la Oktoberfest, la nostra prima giornata. Passiamo la parola al nostro inviato, la signora Aina Fiorisa, che tempo fa? La meteorologhina, vediamo come fare il tempo di domani, al nostro inviato. Buonasera a tutti, che tempo, che tempo che fa? Domani, 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 domani il tempo è bruttissimo, guarda qua, guarda qua, guarda qua, guarda qua, c'è la luce, ma è il sole, mamma mia, è vero, guarda, forse è uno spiraglio di luce domani, penso che piove domani, 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 infatti questo è salire in macchina, questo sta facendo un autostop perché incomincia a piove, schizzechea, schizzechea, ma arriva la nuvola, questa, guarda, questa si scende fino a qua, ne fa tanto, è il scrittore, la pubblicità, è il scrittore in vetro, dai, c'è mangiare, te le tocco, vi saluto a tutti, ciao, ciao, domani, più è, più qua, più là, più qua, più là, più in mezzo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.